Non solo i bronzi del maestro Giancarlo Fulgenzi, ma anche le opere di altri due artisti in mostra al Palazzo della Fraternità dei Laici, quelle di Silvia Peruzzi e di Luigi Raimondi. Sono qui ospite alla Fraternità dei Laici, invitata dal maestro Giancarlo Fulgenzi, amico e grande maestro per me. Lui mi dà quotidianamente dei consigli e stimoli sulle cose anche da migliorare, da fare. E ultimamente mi ha insegnato a lavorare anche la resina su vetro, quindi un grande maestro senza età. L'ultimo dipinto che ho fatto a Olio è proprio il ritratto dedicato a Giancarlo. Ci tenevo molto a questa ultima opera. Le maschere vengono prima di Venezia, la Commedia dell'Arte, la Francia, il nostro teatro e poi ci sono tante maschere che girano che neanche ce ne accorgiamo. Almeno le mie sono evidenti. Hanno lavorato in teatro, questa è stata la mia cultura. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 9 marzo, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 18.00. Grazie. 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 Grazie.